Venerdì scorso la presentazione del nuovo piano industriale di FCA. Ad ascoltare la relazione dell'amministratore delegato Sergio Marchionne c'era anche il segretario generale della Fismic. Le considerazioni di Roberto Di Maulo. Devo dire che è impressionato. Grandissime novità, grandissime cambiamenti che sono in linea con il cambiamento che sta vivendo il mondo dei trasporti. Siamo in presenza di una vera e propria rivoluzione. Oramai il diesel va in cantina, progressivamente chiaramente, non dall'oggi al domani. Entra prepotentemente tutti i sistemi di elettrificazione della motorizzazione. Si comincia con l'ibrido, poi si prosegue con l'elettrificazione totale, poi il plug-in che è un misto tra i due sistemi. Devo dire che ho trovato Fiat e la FCA molto pronta dal punto di vista tecnologico, mi aspettavo di peggio, francamente, paventavo molto di peggio nell'approccio, visto che gli altri costruttori hanno fatto molta pubblicità negli ultimi tempi alla sfida con l'elettrificazione. L'azienda mi sembra decisamente pronta. L'azzeramento del debito è un'altra grandissima e importante novità che sostanzialmente dà fiato alla possibilità all'azienda di fare investimenti tecnologici. Si prevedono 45 miliardi di investimenti dal 18 al 2022, quindi è un grande piano di investimenti per cui serviva del carburante. Il carburante è arrivato con il pareggio di bilancio. La Fismic Amelfi è in realtà sindacale significativa. Di Maulo è ottimista per il futuro dello stabilimento lucano. Pomigliano, che è la parte più critica, riceverà sicuramente, continuerà a produrre la Panda Ecologica e insieme alla Panda Ecologica gli verrà assegnato sicuramente la piccola Jeep, il piccolo SUV della Jeep. Anche per Melfi c'è una grandissima novità positiva. Il refreshment, come viene chiamato adesso, della Compass, che è l'altro modello della Jeep di segmento C, quella grande, che già ha molto successo sul mercato. prevista per probabilmente tra il 2019 e il 2020, verrà fatta a Melfi. Questo saturerà sicuramente l'impianto, ridarà, credo, occupazione, perché a quel punto ci sarà la Renegade, per cui è sostanzialmente già pronto il modello ibrido della Renegade. La 500X, a cui seguirà subito dopo la Renegade nel partire con l'ibrido e ci sarà la Compass. Mi sembra che lo stabilimento di Melfi e i lavoratori di Melfi e la città e la Basilicata possano vivere da questo punto di vista dei sonni tranquilli, perché la loro azienda, la ex SATA di Melfi e sarà in ottima salute.